La pace è un dono dello Spirito Santo, una pace nelle tribolazioni, non quella che ci insegna il mondo, anestetizzandoci a tutto quanto ci circonda. Durante la messa a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riflettuto sulle parole che Gesù rivolge ai discepoli durante l'ultima cena. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace dunque è un dono, strettamente legato alla croce, uno stato che ci permette di andare avanti nonostante le tribolazioni, perché la vita del cristiano è un cammino fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio. Non si tratta di una sorta di stoicismo, quello che fa il fachiro, ha precisato il pontefice, ma di seguire l'esempio del Figlio di Dio preservando la pace interiore. Un modo di vivere molto lontano da quello tanto diffuso nel mondo che cerca invece la tranquillità, una pace artificiale che guarda soltanto alle proprie cose, alle proprie assicurazioni, che non manchi nulla. La pace di Dio è una pace reale, che va nella realtà della vita, che non nega la vita. La vita è così. C'è la sofferenza, ci sono gli ammalati, c'è tante cose brutte, ci sono le guerre, ma quella pace da dentro che è un regalo non si perde, ma si va avanti portando la croce e la sofferenza. Una pace senza croce non è la pace di Gesù, è una pace che si può comprare. La possiamo fabbricare noi, ma non è duratura. Finisce. Grazie a tutti. Grazie a tutti.